Palla finestra 2015 con i 1.00 euro Sceglieranno il campo con il numero 3 Ogo Ave Pogli Con il numero 4 Paolo Rotondo Con il numero 7 Francesco Maolini Il numero 9 per Riccardo Castelli Il numero 10 il capitato Vincenie Henry Con il numero 15 Ruralian Amoroso Il numero 17 sulle spalle di Davide Bonalcini Con il numero 18 Alessandro Gonzozzo Il numero 20 Diva Tiam Con il numero 21 Simone Ravaioli Con il numero 32 Nelly Jones-Ronger E con il numero 55 Simone Tienic In pagina il coce Giorgio Valdi E gli assistenti a terzo setta Alessandro Gugnini E gli assistenti a terzo setta Alessandro Gugnini E gli assistenti a terzo setta Alessandro Gugnini In43 In43 In53 In43 In44 In43